Ancora alta la tensione tra il ministro Toninelli e Strada dei Parchi. Ieri in Abruzzo, partecipando ad un incontro elettorale a sostegno di Sara Marcozzi, il titolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha spiegato. Allora, intanto abbiamo bloccato i pedaci della A24-A25 fino al primo di luglio e mi creda che è una cosa che non era così semplice fare, perché si stavano fregando le mani e il primo gennaio aumentano del 19%. Siccome questo piano economico, cioè l'accordo che lo Stato ha fatto con Autostrade e Parchi, è scaduto da anni, noi non possiamo dare aumenti a chi non firma un contratto con lo Stato. Se ora non si uniformeranno alle richieste legittime, loro devono guadagnarsi, ci mancherebbe altro, ma si deve guadagnare anche il cittadino che va su queste autostrade, noi prenderemo delle decisioni anche drastiche, ovviamente a meno che il concessionario non scenda più a miti consigli. Allora, questa non è una concessione scaduta, è una concessione il cui piano economico-finanziario quinquennale è scaduto. Ovviamente, siccome io non darò più nessun tipo di proroga a nessuno, è finita la pacchia per i concessionari, che grazie alla proroga della concessione continuavano a lucrare senza aver più diritto di gestire quell'infrastruttura. O accettano proposte legittime, sostenibili economicamente, che gli permettono comunque di guadagnare, oppure noi revucaremo tranquillamente. Il ministro Toninelli ci confonde con altri, replica a strada dei parchi, egli sollecita interventi, ma ancora non rende disponibili risorse, blocca il nuovo PEF. Sono passati mesi dall'entrata in vigore del decreto Genova e oggi non solo quelle risorse non sono ancora disponibili, ma persino i relativi decreti autorizzativi non sono stati emessi dal Ministero. Ciò nonostante i lavori sono stati avviati con risorse proprie da strada dei parchi. Capito lo piano economico-finanziario è scaduto da cinque anni, non certo per volontà del concessionario, noi, afferma a strada dei parchi, non sappiamo a quale nostra differente posizione il ministro si riferisca. Certamente non abbiamo mai chiesto l'11% di rendimento sul nuovo PEF, probabilmente ci confonde con altri concessionari.